Salve amici, in questo video voglio mostrarvi come controllare i diodi Zener e anche come scoprire qual è il suo valore nel caso non si leggesse più la sigla sulla sua custodia. Il primo modo, il più semplice e il più utilizzato è quello di impostare il tester nella modalità di misura dei diodi e con i puntali sul tester si effettuano le classiche due misure. Una invertendo i puntali sui terminali del diodo. Nella modalità diretta, quindi con la fascia sul puntale negativo e il positivo dall'altro lato del diodo, dovremo trovare una misura di giunzione di un diodo. Inversamente, invece, poiché la tensione di Zener è quasi certamente superiore a quella che eroga il tester durante la misura, che in genere si aggira intorno ai 2-3 volt, non riusciremo ad ottenere la tensione di Zener e quindi risulterà un circuito aperto, come in questo caso. Vediamone qualcun altro, giusto per curiosità. Quindi, in questo senso, niente. Con il puntale negativo sulla fascia, abbiamo la tensione di giunzione. Già questo, ci dice che il diodo è funzionante, ma non ci dà la certezza che il diodo sia funzionante. Come quasi tutti i componenti elettronici, è probabile che quando il diodo è sottoposto a tensione, poi non funzioni. In ogni caso, se utilizzate questa modalità di misura, sicuramente il diodo non è funzionante se trovate il cortocircuito in una o qualsiasi delle direzioni, quindi ovviamente in tutte e due le direzioni, oppure trovate il circuito aperto in entrambe le modalità di misura. Quindi, anche invertendo i puntali, se trovate il circuito aperto, open loop, il diodo non è funzionante. Vediamo l'altra modalità di test dei diodi Zener. Questo è più interessante perché ci permette di scoprire anche di che valore è il diodo Zener. Dovete procurarvi una fonte di alimentazione, che può essere una batteria, una serie di batterie. In questo caso, utilizzo il mio alimentatore da banco. L'ho impostato alla tensione massima possibile dell'alimentatore, in questo caso ho 30 Volt. Ho inserito in serie una resistenza da 3,3 Kilo Ohm, per avere una corrente che mi permetta di misurare diodi di un quarto, mezzo, un watt o al massimo due watt. Con una resistenza da 3,3 Kilo Ohm e questa tensione, avremmo che al massimo scorrerà all'interno del diodo una corrente di circa 8 mA. E ci permette di testare i diodi all'incirca fino ai 27 Volt. In questo caso, dobbiamo impostare il tester nella misura di tensione continua. Quindi colleghiamo il diodo, collegandolo inversamente rispetto a quello che faremmo con un diodo al silicio. Quindi la fascia del diodo va collegata al positivo dell'alimentazione e il negativo dall'altro lato. A questo punto misuriamo la tensione. La tensione misurata, posso utilizzare il tester in entrambe le modalità, perché il tester in questo caso è Autorange e ci dà anche l'indicazione della polarità, 4,17 Volt. Quindi sappiamo anche che questo diodo è 3,9 Volt. Voi direte, perché 3,9 Volt? Perché il diodo di Zener, così come le resistenze, ha valori discreti, quindi non esistono tutti i valori. Abbiamo per esempio 2,7, 3,3, 3,6, 3,9, eccetera. 12, 12,6, 12,1. Quindi la misura che più si avvicina a questa misura è il 3,9 Volt. Quindi probabilmente questo diodo è da 3,9 Volt. Ed è sicuramente funzionante, perché è attraversato da corrente e quindi questo ci dice che il diodo funziona. Vediamo quest'altro. Sempre ricordatevi la fascia del diodo verso il positivo. Non succede niente con la resistenza che abbiamo inserito in serie. E anche se sbagliate e lo inserite al contrario, non succede assolutamente nulla, perché la corrente che abbiamo impostato tramite questa resistenza per questo valore di tensione, non è sufficiente a bruciare un diodo. Qualunque so sia, anche se fosse un diodo a silicio. Ok, questo Zener per esempio è da 12,6 Volt. Vedete, abbiamo 12,7 come misura, ma come vi dicevo prima, i diodi Zener hanno valori discreti e il più vicino, quello che si avvicina, è 12,6. Quindi, come in questo caso, in cui non è visibile, sulla custodia non si riesce a leggere perché si è cancellata la sigla dello Zener, ma sappiamo che il diodo è funzionante ed è un 12,7 Volt. E vediamo un altro paio, un altro per curiosità e anche per esercitarci. Quindi vi ricordo di rispettare, ma adesso facciamo una prova, anche invertire la tensione, vediamo cosa succede. Questo è 5,1 Volt, perché esistono i diodi Zener da 5,1 Volt. La dimensione del diodo ci dice anche la potenza, in qualche modo. Quindi vado un po' a occhio, ma ritengo di non sbagliarmi di molto. Un diodo di questa dimensione sarà un quarto di Watt, o al massimo mezzo Watt. Un diodo con la carcassa di questa dimensione può essere mezzo Watt, ma credo che sia da un Watt. Vediamo che tensione ha questo diodo. Volontariamente ho invertito i puntali dell'alimentatore rispetto al diodo e abbiamo la sola tensione di giunzione, perché è come se stessimo misurando la giunzione diretta. Quindi abbiamo 0,6 Volt, circa. 0,77, perché l'ho messo come diodo normale. Se lo faccio funzionare come Zener, quindi lo polarizzo correttamente, vediamo che la sua tensione sarà di 5,59. Quindi questi sono diodi da 5,6 Volt, perché è il valore che si avvicina. Vi insegno un trucco per scegliere la resistenza di caduta. Allora, senza farvi tanti conti quando fate divisioni e moltiplicazioni applicando la legge di Ohm, si può fare Volt, Kilo Ohm, Milli Ampere. Quindi se voi utilizzate come unità di misura il Volt, i Milli Ampere e i Kilo Ohm, il risultato sarà congruente. Quindi, per esempio, 30 Volt diviso 3,3, quindi sto utilizzando il valore in Kilo Ohm, abbiamo circa 9, quindi 9 Milli Ampere. Quindi ricordatevi che se utilizzate Volt, Kilo Ohm e Milli Ampere, non dovete fare poi conversioni per 0,001, eccetera. Le misure e i conteggi saranno nelle unità di misura che vi ho appena detto. Questo è un trucchetto che utilizziamo frequentemente, soprattutto per quel che riguarda i circuiti elettronici in bassa tensione, in bassa corrente, come sono quelli che molti obbisti lavorano, tipo amplificatori audio, preamplificatori audio, alimentatori in bassa tensione, quindi non parliamo di circuiti o componenti industriali. Quindi queste tre unità di misura vanno sempre d'accordo e ci permettono di effettuare il conto facilmente. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci alla prossima.